Aule multimediali alla Scuola Media Kennedy di Via de Santellone a Brescia, tutte dotate di lavagne magnetiche con proiettori PC, Wiimote, ossia un sensore di movimento ad infrarossi con connessione Bluetooth e una penna ad infrarossi che genera il movimento. Un'idea dell'Associazione Autonoma di Promozione Sociale per una Scuola Pubblica di Qualità, nata in altre città prima che nella nostra, ad adottarla a Brescia alcuni genitori con l'obiettivo di stimolare i ragazzi all'innovazione anche a scuola e risparmiare addirittura fino ad un terzo rispetto ad una LIM multimediale tradizionale. È un progetto pilota per mostrare ai ragazzi, agli studenti, che si può con poco arrivare velocemente a utilizzare degli strumenti liberi che loro possono tranquillamente acquisire dalla loro rete anche a casa per sviluppare i lavori fatti a scuola, utilizzando uno strumento interattivo. 20 aule multimediali, comprese di proiettori e di tutti gli accessori, è costata la scuola Kenne di 700 euro ognuna, contro i 2200 di quelle con proprietario. Un risparmio notevole anche grazie al lavoro dei genitori che ogni sabato mattina hanno lavorato all'interno dell'istituto per installare le lavagne digitali. Erano anni che il ministero non assegnava delle LIM alle scuole pubbliche e quindi avevamo solo 2-3 LIM per istituto. Ovviamente i genitori li hanno, come dire, integrato con la loro donazione, la loro generosità, hanno integrato questi strumenti per questa scuola. E sono proprio questi genitori che lanciano un appello, adotta una WIILD anche tu. A disposizione delle scuole che volessero ci sono già pronti da vendere 200 computer. Sono una lavagna interattiva. Ciao, e io sono molto di più di una lavagna interattiva. Mi chiamo WIILD. Sai che io posso scrivere sopra le diapo di qualunque presentazione? Anch'io posso scrivere su tutte le proiezioni. Io riesco a fare disegni di ogni tipo e colore sulla mia superficie interattiva. Anch'io posso fare tutto ciò. E mi va bene qualsiasi superficie. Anche un muro bianco. Dato un computer e un proiettore, tutto quello che mi serve è la lavagna. D'accordo per proiettore e computer. Ma tutto quello che serve a me? È qui? Per l'utilizzo di base della mia lavagna si usa il software proprietario gratuito. Certo, ogni marchio ha il suo software, ma... E se non c'è la lavagna del tuo stesso marchio? Cosa succede con le lezioni già preparate? Non funzionano? No, non credo. Beh, basta che tutti usino la lavagna dello stesso marchio. Ah sì? Con la WIILD puoi usare tutto ciò che crei o ovunque. È tutto software libero e compatibile. Open source. Open cosa? Noi abbiamo il nostro supporto tecnico. Se hai bisogno, chiami e nel giro di qualche giorno, sicuramente, per una modica cifra, si fanno vivi. Credo. Da noi c'è una grandissima community, dove tutti condividono le loro esperienze. E il supporto è immediato e gratuito. Parliamo di cose serie. Parliamo di soldi. La WIILD costa meno di 150 euro. Cosa vi serve? Un remont tipo WI, o compatibile, che non supera i 100 euro. Se lo montate sopra il vostro proiettore, vi serve un comune aggancio elettrico da 1 euro e un treppiede da 10 euro. Nel caso il vostro proiettore sia installato a soffitto, serve un supporto che potete ottenere per una decina di euro. Il tutto è facilmente reperibile in negozi della vostra città o in rete. Vi forniamo, gratuitamente, il software che contiene tutti i programmi necessari per creare lezioni, produrre disegni e filmati, navigare su internet durante le lezioni. Insomma, tutto quello che vi può servire per rendere la comunicazione più facile ed interattiva. Ah, scordavo! Non serve seguire installazioni complicate sul vostro computer. Si auto-installa ed è software open source, libero, gratuito e costantemente aggiornato. Inoltre, potete usufruire del supporto veloce e gratuito della comunità. In provincia di Trento, grazie ad un progetto di sostegno, è possibile avere anche l'intervento di docenti esperti che vi possono aiutare. Funziona con tutti i sistemi operativi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti